Mi chiamo Davide Gubellini, sono un volontario delle ACLI e mi occupo dello sportello di autoimprenditorialità co-progettato con il Comune di Bologna. Le tre cose più importanti per i giovani che vogliono intraprendere una nuova imprenditorialità sono la pianificazione, la prudenza e la sostenibilità economica. Lo sportello autoimprenditorialità offre il servizio completamente gratuito di consulenza alle attività innovative di impresa, quindi tutte le informazioni relative agli aspetti amministrativi, fiscali, organizzativi ed anche economici legati alla costituzione di una neoimpresa. Lo sportello si rivolge a tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nel territorio di Bologna, città metropolitana. Per i giovani che vogliono avviare un'attività ci sono delle agevolazioni offerte dallo Stato, dagli enti governativi, dalla Regione, dal Comune, per i cui bandi devono comunque essere periodicamente consultati i siti opportuni. Ma ciò che conta è in ogni caso predisporre un corretto business plan attraverso il quale coloro che devono esaminare la vostra richiesta finanziaria hanno modo di poter valutare il vostro progetto di impresa.